Bel 3-0 della CF sul Perugia, al sesto subito in vantaggio con un bel tiro di Razzolini. Al ventisettesimo Gnisci si dirige in volata verso la porta, il tiro intercettato dal portiere. Quarto della ripresa, Vicchierello, destro di rara potenza e precisione, Antonelli non ci arriva ed è 2-0. Al nono, Brividi per l'Arezzo, Giadosca colpisce la parte superiore della traversa. Sette minuti più tardi, Verdi di punta da distanza ravvicinata, ma c'è il portiere. Ancora avanti in Amaranto, punizione dalla trequarti, tentativo difensivo, la parla nei piedi della 22 a retina che si fa negare il gol. Settantotesimo, Master crossa il portiere e non trattiene la palla, carambola in fondo al sacro ed è 3-0. C'è tempo per un'altra scorribanda retina, con un cross che però nessuno raccoglie. Finisce con un rotondo 3-0 il derby che continua a far sognare le ragazze del calcio a retino.